Un finanziamento di 850 mila euro circa di fondi Fesdra ha permesso di realizzare un desiderio per l'intera comunità di Casa Massima, in particolare dei maestri cartapestai del Carnevale, avere una sede stabile per la costruzione dei carri allegorici che prende forma finalmente nei locali sequestrati alla malavita e all'incuria nella struttura del baricentro e riconvertiti con un iter partito nel 2018 in spazi per le esposizioni e la cultura cittadina. Inaugurato alla fine degli anni 70 con la sfilata dei carri di prima categoria, il Carnevale coinvolge ogni anno tutta la città, fino alla prima domenica di quaresima con la celebre pentolaccia a Casa Massimese e da oggi guarda anche alle nuove generazioni. Un laboratorio per la lavorazione della cartapesta, un'antichissima tradizione a Casa Massimese che stiamo riscoprendo da qualche anno. Siamo alle porte del Natale ma la nostra mente è anche proiettata al Carnevale. Questo è il regalo che noi stiamo facendo ai cittadini di Casa Massimese ma anche ai cartapestai, alle associazioni dei maestri cartapestai che da anni aspettano dei capannoni nuovi e sicuri in cui poter lavorare in sicurezza per la creazione dei loro carri allegorici. Ma non solo, saranno anche i laboratori per la comunità scolastica. Noi da anni facciamo progetti all'interno delle scuole per far conoscere la lavorazione della cartapesta. Vogliamo coltivare i cartapestai del futuro è cosa di meglio di un laboratorio nuovo dedicato proprio ai ragazzi.